Ben trovati, oggi ci troviamo ad Alassio, siamo in compagnia del signor Gianfranco Fava che è proprietario dell'hotel Gandolfo, appunto qui ad Alassio. Buongiorno signora Gianfranco. Allora, la sua è una struttura storica di famiglia. Certo, familiare e quest'anno compiamo addirittura 100 anni di attività. Un bel evento diciamo, un bel traguardo. Certo. Per questo compleanno che cosa avete preparato? Abbiamo praticamente fatto un rinnovamento all'hotel di 5 camere nella zona monte dell'hotel. Abbiamo fatto 5 camere con aria condizionata e con tutti i comfort. Vedo che sono arrivati in compagnia moderna, per cui attuale sono molto confortevoli. Voi come hotel proponete anche bed and breakfast ma anche pensione completa, giusto? Noi facciamo sia bed and breakfast anche che pensione completa. Perfetto. Che tipo di cucina proponete? Abbiamo cucina ligure e poi naturalmente con il nuovo cuoco quest'anno abbiamo fatto, diciamo, ora fare altri piatti un po' a sorpresa. A sorpresa, perfetto. Siamo in una location straordinaria perché siamo a 5 metri dal mare, proprio sulla spiaggia. avete anche la spiaggia di vostra proprietà, per cui bagni Gandolfo, giusto? Certamente, abbiamo la spiaggia proprio di ripeto all'hotel, perciò i clienti devono solo attraversare la strada ed essere direttamente spiaggia. Pertanto chi arriva parcheggia la macchina e non si muove. Abbiamo il parcheggio privato direttamente qua vicino per i nostri clienti. Poi siete anche sul lungomare, di conseguenza, è anche bello alla sera farsi una bella passeggiata. So che avete anche un residence. Sì, abbiamo un residence che gestisco sempre io direttamente e sono mini alloggi da monolocali per due persone oppure quattro posti per un bilocale. Perfetto. Vogliamo dire il nome del residence? Resident Rodi, che se qualcuno vorreste anche prenotare può anche prenotare direttamente qua all'hotel Gandolfo. Perfetto, vogliamo allora validarti per potervi contattare? Il numero è 0182 640 878, il sito è www.hotelgandolfo.com, mentre per l'e-mail è info-hotelgandolfo.com. Perfetto, ringraziamo allora il signor Gianfranco per questa breve intervista che ci ha dedicato. Vi invitiamo a venire ad Alassio e godere appunto dei servizi dell'hotel Gandolfo. Da Alassio è tutto, a voi studio. Grazie, arrivederci.